Suè, dope shit, dope shit, sono qua, sono qua per fare complimenti a Bello Figo, sì sì, ho visto, adesso ho appena visto l'intervista, se guardate bene la scena, se guardate bene la situazione, Bello Figo è un uomo importantissimo, cioè sembra che senza di lui tutte quelle persone lì non saranno lì, hai capito? Cioè Bello Figo, no è grande, è un genio, è un fottuto genio, cioè è lì, ok, per una musica che ha fatto e stanno tutti cercando, curiosi di sapere perché hai fatto quel tipo di musica lì, stanno cercando spiegazioni su quel tipo di musica, cioè è un genio così importante che deve spiegare che tipo di musica è quello che ha fatto, cioè in senso tu perché? Tutti noi ti rispettiamo, perché questa musica? E lui è lì per spiegare come è fatto il suo stile, capisci? Cioè è un grande, è un grande, Bello Figo è un grande, è un grandissimo, cioè poi alla fine attacca, vabbè poi io voglio capire una cosa, con tutti i problemi che c'è l'Italia, proprio Bello Figo dovete scaricare tutti i problemi, cioè sembra che lo stanno attaccando proprio, tu sei quello, tu sei, E poi quella signora lì, scusami per dire lei, che dice noi ti paghiamo, ti paghiamo le cose, tasse, poi l'affitto, e no, e no, Bello Figo è fratello mio, se non paga l'affitto sicuramente qualcuno lo paga, Pago io, pago un altro, cioè capisci il discorso, hai sbagliato il concetto, comunque va bene, tutti puntando e ditto su Bello Figo, ma lui non c'entra niente, ma quello uomo con giacca e cravatta è l'uomo più grande, è grande, Lui è grande, cioè è lui che sta facendo pubblicità, per lo suo, cioè si è ascoltato bene le sue domande, le sue cose dice, poi dice Bello Figo, poi tu hai altre musiche, ma tutto titolato così o diversamente, ce lo spiega esattamente le cose che fa Bello Figo, e poi Mussolini dice, ma questo ce la faccia tosta, ce la faccia, è ovvio, perché tutte quelle domande che state facendo, lui non c'entra niente, e lui ne frega un cazzo, per dirti, poi lui dice, come giustamente che sia, quei profughi sono esseri umani e vanno trattati bene e sono le richieste che hanno fatto loro, Wifi, ecco perché lui le ha usate a fare la musica, cioè Bello Figo ora è dappertutto, cioè è un grande, poi non lo so tra quelli lì senza offesa, con le trasmissioni tra Bello Figo e loro, chi sono i più stupidi, ma Bello Figo è lì, per spiegare, mi faccio una sega, per parlare di cose politici, per parlare con i ministri, a Trini si arriva.